Gesù guarisce dalle malattie e libera dal male. La sua missione è di salvare il mondo, di trasformare il cuore e la mente dell'umanità ammalata. Questo non accade nonostante l'uomo, ma solo se egli fa buon uso della sua libertà. È per mezzo della nostra fede e della nostra disponibilità che avviene la salvezza. Ogni miracolo raccontato dai Vangeli ha queste caratteristiche. Si compie allora quando l'uomo porta qualcosa, che sia la sua fede, la sua disponibilità, i suoi beni materiali. Se vogliamo possiamo guarire soprattutto dalla malattia più pericolosa, l'infelicità. Il dono della beatitudine è il cuore del Vangelo, la buona notizia. Ma se guardiamo al mondo, lo scopriamo composto da persone scontenti e inclinie alla depressione. Anche noi credenti e praticanti non siamo proprio l'immagine della gioia e della felicità. E le nostre comunità cristiane? Spesso teatrini di false felicità che nascondono sofferenze infinite. Il rischio è di raccontarsi cose non vere e di recitare una parte, ma oramai tutto questo è diventato insostenibile. Qual è la sorgente della felicità? Il motore della vita è indubbiamente l'amore e Dio è l'amore. Decidersi per Dio è una scelta che va compiuta e rinnovata quotidianamente, ne non deve mai essere data per scontata. Le apparenti felicità del mondo non appagano e spesso si cade in depressione, in preda al non senso che annebbia il desiderio di vita. Anche questa è una lebra che va consumando la carne interiore, la vita, dilaniandola e facendola marcire. La redenzione è l'offerta di trasformazione dell'esistenza. Si tratta di elevare la vita facendole scoprire la dimensione spirituale, vivendola in pienezza, senza lasciare parti atrofizzate. Scegliere Dio significa amare, perché solo l'amore ci permette di dilatare l'anima e di farla progredire, sapendo che le sue potenzialità sono infinitamente maggiori di quanto possiamo immaginare. Non risparmianti in nulla, ama, compiendo con gioia la volontà di Dio. Non mettere limiti alla generosità, devi essere felice di donarti a tutto e a tutti per amore di Dio. Così scriveva la serva di Dio Maria Bordone. Grazie a tutti.